Scatti che documentano le vacanze estive dei Piemontesi agli inizi del Novecento con i primi costumi da bagno nella Liguria di Levante e i viaggi dei più facoltosi fuori dai confini nazionali. Sono esposti nella mostra Fuori Porta, viaggi e vacanze dei Piemontesi tra 800 e 900 fino all'11 dicembre a Palazzo Lascaris. Fuori Porta è una mostra emozionante perché riporta la memoria a frammenti di vita collettiva. Sono immagini scattate nel corso degli ultimi decenni dell'Ottocento che arrivano fino alla metà degli anni Cinquanta e del Novecento in cui tutti noi possiamo riconoscerci e possiamo ritrovare un frammento di noi. Le vacanze, questo momento che all'inizio è appannaggio esclusivo delle classi molto abbienti e che poi mano a mano diventano un'abitudine consolidata per tutti i piemontesi. In questa mostra, dal titolo apparentemente ludico, in realtà si ripercorrono quasi 120 anni di storia della nostra società, quindi storia del nostro costume ma non solo, anche cambiamenti epocali rappresentati dagli scatti di fotografi contemporanei dell'Ottocento, noti e meno noti ma che ci sanno regalare momenti di grande emozione e di grande coinvolgimento.